La prima tappa, Aquileia-Aiello, è lunga 16,5 km. Si percorre in un territorio di campagna senza incontrare alcun dislivello. Dalla Basilica d'Aquileia si supera la Via Sacra per giungere alla vicina frazione di Monastero. Per strade di campagna, costeggiando l'argine del fiume Natissa, si superano le località di Borgo Sandrigo e Capo di Sopra. Attraversata la statale per Gorizia, si raggiunge il paese di Perteole per arrivare dopo due chilometri ad Aiello. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.